Sì sì sì, continuo, continuo. Dritto, dritto, segui le altre persone. Dai che c'è poca pendenza, dai. Su, ti do un aiuto, vai. Ok, questa è sempre la 66. Forza, vai dritto, vai, vai, non frenare, vai. Dammi la mano. Io non ti riesco. Scusa. Ok, vai dritto. Vedi quel bimbo quanto è piccolo, è il più piccolo di Letizia. Ciao, ciao.